Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando relativo all'accordo quadro per l'aggiudicazione dei lavori di recupero delle strade provinciali. Le offerte potranno essere presentate entro il 24 febbraio. Attraverso il nuovo accordo quadro, afferma l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, selezioneremo sul mercato un'impresa per ciascuna delle nove province siciliane. Tale soggetto eseguirà su indicazioni di regione ed ex province ulteriori interventi di manutenzione e recupero attesi da anni, del valore di 7 milioni per ogni ambito territoriale. Peraltro, aggiunge, rispetto al precedente accordo quadro abbiamo esteso l'ambito dei lavori eseguibili, prevedendo anche il rifacimento di barriere e le opere di consolidamento e messa in sicurezza dei dissesti. 63 milioni di euro, infatti, è l'importo totale destinato al miglioramento delle condizioni delle strade siciliane di competenza dell'ex province e che permetterà di eseguire la manutenzione straordinaria della viabilità secondaria, un ulteriore investimento dunque da parte della regione che arriva a seguito del precedente accordo giunto a scadenza di 45 milioni di euro.